Grande festa alla Grosso Vacanze, domenica 19 un porte aperte speciale. A parlarcene il signor Grosso Vincenzo che è il titolare dell'azienda. Allora perché è speciale il signor Grosso? Intanto un saluto a tutti i visitatori del nostro sito. È speciale perché quest'anno compiamo 40 anni di attività. La nostra piccola azienda ideata e costruita con tanto sacrificio negli anni passati nel tempo è diventata leader del settore in tutta Italia. Speriamo di mantenere le nostre posizioni con il vostro aiuto. Sappiamo che ci sono delle iniziative particolari per questi 40 anni, quindi prezzi decisamente a ribasso. Noi abbiamo pensato in questa occasione di fare dei prezzi veramente ai limiti del costo per favorire l'acquisto da parte dei nostri clienti. Questo vale sia per i camper, per le cari di tenda e per migliaia di accessori che abbiamo in magazzino. La festa comunque durerà tutto il giorno, quindi dal mattino alle 10 fino al pomeriggio tardo, fino a che ce n'è insomma. Ed è una festa dedicata ai grandi e ai piccini. Ci sarà della musica, ci sarà svago per i bambini, ci sarà la possibilità di gustare dei prodotti locali. Allora durante la festa noi offriremo caffè e quacquare, la specialità locale di Genova. Poi ci saranno intrattenimenti musica e cantante, abbiamo anche intrattenimento per i bambini, quindi a questo punto sarà una festa importante di svago. Inoltre le più grosse case del settore si sono date appuntamento qui alla Grosso Vacanze domenica 19 per raccontarvi un po' della loro storia e dei loro prodotti. Allora in quell'occasione alcune case molto importanti in Europa che costruiscono ricambi accessori per le caravan e per gli autocaravan allestiranno il loro stand qui nel nostro cortile e presenteranno i loro nuovi prodotti e le novità del settore. Queste aziende sono la Fiamma, la Alco, la Thetford, la NDS e la Dimatec, quindi sono le più note in Europa nel nostro settore. avranno i loro tecnici qui a spiegarci, avremo un movimentatore per far vedere come si può spostare un aerolotto con un telecomando quando la parcheggi nel campeggio o a casa e avremo anche moltissime altre novità da illustrarvi. Bene, allora l'appuntamento è per domenica 19 con orario continuato dalle ore 10 in poi per grandi e piccini qui a Genola. Grosso Vacanze, porte aperte, un compleanno speciale, 40 anni. 40 anni, 40 anni sono passati anche per me. Non li dimostra, non li dimostra. Noi vi facciamo presente che abbiamo da quasi 3 anni anche un nipote, un figlio di mia figlia che lavora con noi, abbiamo mio figlio che fa da consulente, abbiamo la nuora che si interessa di marketing e di pubblicità, quindi siamo uno staff vecchio ma abbiamo anche i rincalzi che stanno premendo forse per mandarmi in pensione dopo 40 anni di attività anche se la Fornero ha aumentato gli anni. Quando mai, quando mai, signor Vincenzo in vacanza o in pensione non ci andrà mai. In vacanza ci vado. In vacanza ogni tanto però. A guai. Già lì sono bravi a sostituirla voglio dire. Certo. Le vacanze sono una cosa. Comunque spero di vedervi numerosi quest'anno e forse magari ai 45 anni ancora. Buon compleanno signor Grosso. Grazie, grazie a tutti e buongiorno.